I campioni nuovi sono il motore di League of Legends, sono quelli che portano la gente a tornare sul gioco, sono quelli che portano la gente a trovare nuovi main, sono quelli che portano il gioco a evolversi perché creano qualcosa di innovativo, di unico, di interessante che poi interagisce con tutti gli altri campioni e quindi c'hai tutte queste interazioni nuove e quindi arriviamo al dunque. Programma campioni, giugno 2020, ci siamo, cominciano a parlare di quelli che saranno i prossimi campioni che non manca poi così tanto, spoiler, e mamma mia, mamma 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 mia, signori è arrivato il momento, ma vogliono partire con un po' quello che è il loro ragionamento. Allora, nel 2018 hanno avuto questo approccio, hanno cominciato a fare più rework, hanno cominciato a fare più focus sul migliorare i campioni che erano veramente datati, sono resi conto, bene, ora che abbiamo tolto di mezzo quelli che erano i più problematici e ci sono ancora alcuni che potrebbero meritarsi un rework, ma magari qualcosa di più semplice, come ad esempio quello che è stato il rework per Ezreal, dicono, ok, bene, quindi modernizzare alcuni, ma cominciamo a pensare a tanti nuovi campioni, perché alla fine molte persone tornano a giocare a League of Legends proprio perché ci sono campioni nuovi, perché ci sono nuovi modi di giocare e quindi pensano, ma sì, dai, proviamo a proporre qualcosa di nuovo, possiamo tornare a un ritmo più interessante. E secondo loro, questa è la scommessa che fanno quest'anno, vogliono provare a rilasciare almeno sei nuovi campioni ogni anno, uno per ogni posizione, a eccezione della Corsia Centrale, per cui cercheremo di rilasciarne due. Perché due per la Corsia Centrale, perché ci sono quelli che giocano assassini e ci sono quelli che giocano maghi, di conseguenza ne fai uno per uno assassino e uno invece lo fai mago. Ok, interessante come teoria, è da vedere se poi questo nella pratica risulterà effettivo come lo vogliono fare loro, sarò sincero, mi stupirei a vederli tutti e sei quest'anno. Allora, quindi, sei campioni all'anno, perfetto, ottima idea, mi piace perché così è uno per ruolo e tutti sono contenti. E da ora in poi, quindi, cosa andremo a trovare? Perché qua, dice, non vi mettete comodi perché mentre vi parliamo di tre nuovi campioni in arrivo quest'anno. Sogni di un nuovo campione a giungla. Sappiamo che il prossimo era un jungler, lo sapevamo già da mo', sapevamo un po' anche quelle che sono le tematiche, parlavano anche del fatto che erano indecisi se rendere il nuovo campione a giungla un assassino o uno schermagliatore, oh mio, di un italiano agghiacciante, un bruiser, ma dai nostri sogni creativi è emersa una schermagliatrice a media gittata che entra ed esce dalla mischia. Sono genuinamente terrorizzato dal fatto che sia da media gittata, quindi vuol dire che non è corpo a corpo, che entra ed esce dalla mischia. Perché dovrebbe entrare e uscire dalla mischia se è da media gittata? Oh god, oh god, oh god. Non sono... mi fa un po' paura. E poi qua fanno tutto questo teaser dicendo, non dovrei dire altro ma forse possiamo riuscire a trovarla, ma non fate rumore, è un po' timida e se dovessimo spaventarla potrebbe scattare in azione e fuggire mentre la nostra vista sia nebbia e tutto diventa sfocato. E c'è poi questa immagine, questa gif in cui c'è questo skillshot che non sappiamo cosa sia, oltre al fatto che ha una gittata colossale, e fanno ben intendere sul dormire. Perché le meccaniche sul dormire sono così divertenti, il drowsiness e poi lo sleep sempre intriganti. Ci ricordiamo Zoe l'ultima volta che l'ha proposto. Questo mi intriga molto ma allo stesso tempo mi terrorizza perché può risultare o tipo gigasbilanciato oppure tipo... Molto, molto, molto inquietante. Sappiamo, per chi non se lo ricordava, una natura molto da fauno, molto da cervo, c'erano molte battute sui cervi e i fauni quando hanno presentato l'ultima volta questo campione, ne hanno chiacchierato un po' e discusso un po'. Quindi sappiamo che è uno sleep, sappiamo che sarà qualcosa riguardo alla foresta, non perché è la giungla ma proprio perché è qualcosa legato alla foresta. Secondo me sarà qualcosa tipo driade, una roba del genere. Però non mi riesco a immaginare una driade che combatte da media gittata, se suona molto più supportivo. Vedremo, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Un'esperienza estracorporea e questo è il campione subito dopo questo jungler che... Allora, allora, questo è il combattente corpo a corpo che dovrebbe funzionare per una solo lane, che sia top o che sia mid, non hanno ancora confermato nessuno dei due. C'è questa descrizione che... mi fermo un attimo su quella descrizione perché, da ricordare, l'altro campione viene lanciato, i prossimi due campioni vengono lanciati molto vicini l'uno all'altro. Hanno detto che è un evento che collega i due campioni insieme. Quindi, in teoria, vengono rilasciati uno dietro l'altro, o comunque a brevissima, magari una patch in mezzo vuota e poi c'è la patch col campione nuovo. Ma ci sono questi due campioni e uno è questa specie di fauno, cervo, quel che cavolo l'è, e poi abbiamo questa immagine. Abbiamo questa immagine e una descrizione che parla di un'esperienza estracorporea. L'ultima cosa che ricordo è della polvere viola e il suono di passi che si allontanano rapidamente. Sento una presenza dentro di me, qualcosa di oscuro ma sopito, qualcosa che ho sottomesso. Quella figura mascherata in lontananza sono forse io? Impugno due armi, una mi è familiare e la presenza dentro di me riconosce l'altra. Quindi c'è un'arma che è proprio quella della persona e poi qualcun altro che coabita con questo personaggio che riconosce l'altra. Secondo me, tipo, potrebbe essere un Darkin, qualcosa del genere. Verrebbe da pensarlo perché è raro che un'entità riconosca un'arma. Cioè, uno dice, ok, la tua arma, il tuo corpo e riconosci la tua arma perché hai vissuto nel tuo corpo per tutta la vita, hai usato sempre quell'arma e la riconosci. Ma è difficile da pensare e capire perché verrebbe davvero... Cioè, anche la schema di colori rosso così viene davvero da pensare a un Darkin. L'idea mi intriga, ma vorrei capire. Un Darkin con due armi di cui una non è la sua e una è la sua. Allora, in profissio ho la sensazione che il mio spirito venga attirato da figura mascherata da me e poi, essendo uno strattone, il mio coscio viene tirato sempre più velocemente verso il mio corpo finché ci sbatto contro. Cioè, mmm, mmm, mi preoccupa. Un campione con due armi in mano, che poi c'è solo Olaf con due asce se ci penso. Mi sforcio, vabbè, escludendo le pistole. Di armi corpo a corpo non mi pare che ci siano così. Katarina con i pugnali, Akali con i kunai. I guess, cioè, forse però sono più parte centrale del loro kit. Cioè, perché sennò perché mettere così tanto focus sulle due spade? Mmm, molto vaghi in questo caso. Non so cosa tirarne fuori. Però c'è un focus sulle due armi. Il che mi fa paura. Più che altro perché la spada che avevano fatto vedere nel trailer era una spada, tipo katana. E quindi immaginatevi... Oh mio Dio, non mi fate Zoro dentro League of Legends, per favore. Ah, dopo il campione giungla riasceremo un nuovo assassino. Ok, questa parte mi era sfuggita. Quindi è un nuovo assassino, spoiler. Potrete familiarizzare con entrambi i campioni in un grande evento estivo in arrivo il prossimo mese. Si parla quindi di luglio. Messaggio per tutti gli amanti del brivido. Vi piace ridere in faccia il pericolo? Siete tipi che si divertono a unirabilità per creare nuovi eleganti combo? Questo è il nuovo tiratore. Sentite un brivido all'idea di tuffarvi nella mischia in turbinio di rame e proiettili per poi uscirne con un solo bricio di salute? Se avete risposto sì a queste domande, provate che questo nuovo campione faccia per voi. Un nuovo tiratore pronto a uccidere arriverà durante l'anno. Che, allora, F, E, D, I, E, cos'è un R? Fedri Vass, Fed, B, Vass, che, 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 dovrebbe essere un nome, immagino. E il fatto che ci siano i colori dietro, il fatto che ci siano i colori dietro, un po' mi spaventa. Perché, allora, voi vedete questo disegnino dietro? È una rosa. Questo stile lo vediamo spesso e lentieri ritratto in quelle che sono le tematiche noxiane. Ci sono alcuni, soprattutto su Universe, ci sono alcune rappresentazioni che presentano proprio questo stile grafico legato a Noxus. Un nuovo tiratore da Noxus a unire abilità per creare nuove ed eleganti combo. Ho genuinamente paura nel capire che cosa sia questo. Sério, non, 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 non. Un tiratore che già a Felios è stato 200 anni di esperienza di Riot che io non voglio rivivere mai più nella vita. Ed è ancora nel gioco, ma adesso è bilanciato, almeno, circa, circa. Ho paura. I tiratori sono così difficili da creare in maniera efficace e senza rompere il gioco. Vedremo, vedremo. Scopriremo col tempo. E qua annunciano poi, a gran sorpresa, quello che sarà il prossimo Visual Gameplay Update, che è Dottor Mundo. È ancora in una fase di inizio di sviluppo ed è in programma per il 2021. Quindi aspettatevi l'arrivo di qualche altro nuovo campione tra il tiratore di cui parlavo poco fa e Mundo. Quindi almeno un altro paio di campioni usciranno prima che si veda Mundo reworkato. Molto bello. Il motivo per cui vi ne stiamo parlando già d'ora è che abbiamo ricevuto un'elezione molto positiva da parte dei giocatori dopo la pubblicazione dei blog degli sviluppatori su FidoStix e Volibear. E abbiamo deciso di farlo anche per Mundo. Non entreremo in dettagli su questo nuovo VG per ora, ma pubblicheremo un po' scompleto la prossima settimana. Yeee! E ne parleremo quindi in un altro video per parlare della fase iniziale e analisi delle meccaniche del gioco, dell'aspetto narrativo e di quello artistico. Mundo. Che qua, in questa rappresentazione, sa proprio di orco più che di mostro deforme, di Zaun. Quindi, mmm, mmm, un po' spaventa. Qua poi, nella conclusione, uno dice, vabbè, dai, riassumeranno un po' tutto, diranno un paio di cazzade, niente di esagerato, eccezionale. E invece, mi dispiace di non essere riuscito a trovare il nuovo campione in giungla. Continuano a parlare di questo trovare il jungler avversario, il che mi fa genuinamente paura perché se vedo di nuovo un campione con invisibilità in giungla urlo, è stata proprio una strana esperienza. Cercherò di essere più attento per il prossimo programma campioni, nel quale parleremo di altri due nuovi campioni che stiamo sviluppando. Quindi abbiamo anche le informazioni su prossimi campioni, quindi abbiamo un jungler. Un assassino mid, la di Kerry, quello eccezionale, veramente. La prossima volta per leggere di un formidabile mago, quindi quattro, e cinque di un tank di supporto incredibilmente resistente. E quindi top laner, scusa? No, non ho capito. Dove sta la top? What? Raga? I reward di Volibert conta come top laner. Dov'è il mio top laner? Riot? Warco 2? Niente di top laner. Bene. Abbiamo anche intenzione di fare un altro sondaggio voto a un VGU, visti gli ottimi risultati dell'ultimo. Probabilmente alla fine di quest'anno, all'inizio è il prossimo. Giustamente, prima fanno tutti i campioni e poi cominciano a pensare al prossimo VGU. Mmm. 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 Nessun top laner. Mmm. Mmm. Vedremo poi. Sono curioso di vedere questo evento estivo che cosa ci porterà. Spero davvero qualcosa di più unico e che vada un po' a rompere, tra virgolette, il meta, perché il meta su League of Legends è molto, 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 molto statico. Ed è purtroppo un vero peccato. Cioè, la gente può ridere e scherzare sul fatto che la patch di metà anno bilanciasse e tipo sconvolgesse il meta. Ma secondo me è necessario che ci sia, perché sennò per un anno intero tenere lo stesso meta... Orco, due, che parla. Sono sei mesi che la mid e la top... Ogni ruolo ha tipo i cinque campioni che sono sempre giocati dall'inizio dell'anno e non ci si è mossi di una virgola. Cioè, è soltanto nerfato quelli che erano disgustosamente forti. Bè! E alcuni vengono giocati con... Quindi, bè! Stano sincero. Vedremo, vedremo. Sono curioso e spero incrocio le dita che vada tutto come debba. Signor e signori, però questo è quanto per questo video. Noi ci vediamo al prossimo e vi auguro. Bye bye!